Musica Oggi la conferenza stampa del direttore di cardiocirurgia dell'Università Materdomi di Catanzaro per fare il punto sulla cardiochirurgia tra presente e futuro per presentare il settimo simposio. Cardiochirurgia tra presente e futuro. Ha presentato qui i dati degli ultimi anni, qual è la situazione attuale? Ha fatto anche un'analisi dei vari commissariamenti? Sì, diciamo la situazione dal punto di vista dei risultati e di tutto quello che ha certificato il Ministero della Salute è sicuramente positiva, quindi dobbiamo dare un messaggio positivo alla cittadinanza. La cardiocirurgia in genere in regione funziona e quindi in questo modo noi cerchiamo di essere a livello di quelli che sono gli standard tra virgolette nazionali. Andiamo anche al di sopra dell'istante nazionale, questo è un fatto positivo per i cittadini. L'elemento di criticità è legato ovviamente agli investimenti che vengono fatti soprattutto nel pubblico e questo lo sto sottolineando da tempo, cioè è importante e indispensabile potenziare soprattutto questo centro pubblico. Perché se è un centro pubblico questo che ha dimostrato di valere, nel senso con dei risultati, ripeto, certificati, è importante fare un investimento. Ecco, questo è l'elemento critico che fino a questo momento io non ho visto che vengono fatti gli investimenti. Poi quando dobbiamo però parlare male e dire parlare male tra virgolette e parlare soprattutto di mobilità sanitaria passiva per la cura delle malattie cardiovascolari, allora tutti quanti ci vanno dentro, i media ovviamente ci vanno dentro, però ci sono degli elementi, dei margini per poter uscire da questa cosa, non definitivamente, ma per poter migliorare quelle che sono le prestazioni, soprattutto a prinzio numerico, per soddisfare le esigenze che sono... ricordiamoci che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità nel mondo occidentale, è inutile che ci nascondiamo e poi vengono le malattie oncologiche. Quali sono le necessità di intervento per migliorare quello che è appunto il servizio pubblico per quanto riguarda la cardiochirurgia? Io parlo ovviamente della cardiochirurgia universitaria, quindi inevitabilmente parlo di noi. Quindi gli spazi ci sono, aumentare i posti delle aree critiche, quindi terapia intensiva postchirurgica. Per fare questo serve un po' più di personale infermeristi e un po' più di personale di anestesisti. Quanti sono i posti letto attualmente in totale per quanto riguarda la cardiochirurgia universitaria? 14, diciamo che sono stati un po' allargati all'interno, viste le notevoli richieste anche a 20, 22, ma perché, diciamo, visto che ci sono molte richieste, e purtroppo solo 4 di terapia intensiva postchirurgica. Sarebbero invece necessarie? Beh, sarebbe necessario arrivare almeno a 20 posti letto ufficiali di detergenza ordinaria e come le altre cardiochirurgie italiane che non hanno meno di 6-8 posti letto di terapia intensiva. Quindi l'elemento critico è sempre lo stesso. Sono le aree critiche. La terapia intensiva è un'area critica che aveva potenziata. Soprattutto abbiamo visto, soprattutto in epoca Covid, che erano quelli posti che si cercavano molto spesso, che dovevano essere trovati negli ospedali. Quello delle aree critiche. Lei ha parlato anche durante la conferenza stampa degli infermieri. Ha detto da qui escono tanti infermieri, ma poi mancano gli infermieri. Qual è un'analisi in relazione proprio agli infermieri, che tra l'altro spesso sono costretti ad andare fuori regione a lavorare? Questo è il paradosso. Cioè, questa università da anni, diciamo, ha avviato il primo corso che è stato avviato, il corso di laurea delle professioni sanitarie, dopo medicina e chirurgia, ovviamente, non come laurea magistrale, ma come laurea triennale, è proprio quello di infermieristica, con dei numeri importanti di immatricolazioni. Dove vanno a finire questi poveri ragazzi che poi si laureano? Ci sono pochi concorsi, probabilmente, ci sono pochi investimenti, ci sono a volte delle, come dire, delle graduatorie regionali che non vengono soddisfatte. E quindi molti, ovviamente, se noi andiamo a guardare i graduatori di altre regioni, vediamo che si fanno concorsi per centinaia di infermieri. Questo è un dato su cui ci deve essere pure qualcuno che, diciamo, che lo analizza. Sempre durante la conferenza stampa lei ha citato diversi commissari, indicando per alcuni di loro di essere stati, come dire, generosi anche con una sanità privata, con alcune strutture private. Qual è la sua valutazione in merito a questo? E secondo lei, come è stata l'opera dei commissari? Quali hanno penalizzato, a suo avviso, se l'hanno penalizzata di più, la sanità pubblica? Diciamo che quello è un dato oggettivo. Quando vengono fatti... Lei parla, ovviamente, dei commissari per il piano di rientro. Quando vengono fatti dei decreti del commissario ad acta, come quello che è stato fatto nel 2016, in cui c'è la ripartizione dei posti di terapia intensiva e di degenza ordinaria, lì basta guardare quelli lì e si capisce chiaramente che c'è... Diciamo che... Soprattutto questo centro universitario è stato penalizzato numericamente. Quindi, fondamentalmente, tu mi dici, tu puoi fare solo questo. Puoi fare solo un certo numero di interventi. Non mi dai la possibilità di poter incrementare. E noi quest'anno abbiamo un incremento nel numero degli interventi che è del 40% in più rispetto all'anno scorso. E l'anno scorso, 2020, nonostante il Covid, noi siamo tra i pochi centri cardiochirurgici italiani. Pochi, insomma. Diciamo, molti centri cardiochirurgici per il Covid sono stati chiusi perché le terapie intensive servivano ai pazienti Covid, soprattutto Lombardia, Emilia. Noi, paradossalmente, l'anno scorso abbiamo incrementato del 15-20% gli interventi rispetto al 2019. Quindi, l'impegno da parte nostra c'è. E' chiaro che dobbiamo avere dei riscontri, dei riscontri di investimenti e dei riscontri immediati sia da parte, ovviamente, dei commissari a piano di rientro. Ripeto, non è che loro si devono... Purtroppo ci hanno molti problemi, ci mancherebbe altro. Ma anche dei riscontri all'interno dell'azienda ospedaliera. Però, insomma, l'assistenza pubblica dovrebbe essere sempre al primo posto. Secondo lei, i commissari hanno penalizzato il pubblico da questo punto di vista? Ma questa è una cosa che si... C'è anche nelle altre regioni e ci mancherebbe altro. Il privato, probabilmente, è molto più snello. Anzi, probabilmente, sicuramente, molto più snello. Se io devo fare l'acquisto di uno strumentario, il privato fa una trattativa diretta dell'acquisto. Se qui dobbiamo passare a testo gare, contro gare, eccetera, eccetera. E il sistema proprio italiano, che ovviamente è molto burocratizzato, e quindi inevitabilmente porta a queste sfasature. La labbra non si sottrae, ovviamente, a questo. Quindi il privato, quando è chirurgia o nonno, a tutti i livelli, per tutte le discipline, è molto più snello. Ed è veramente un paradosso, perché poi, alla fine, se uno si sente male, non va nel privato. Va, tranne alcune strutture, anche fuori regione, che fanno anche pronto soccorso. Ma va nel pubblico. Va nel pronto soccorso del pubblico. Invece, sulla questione Sant'Anna, visto che ci sono state diverse proteste, diverse polemiche, lei cosa ci può dire? Nel merito del Sant'Anna, io ripeto, io parlo solo di questa cardiochirurgia. Quello che io ho detto e che ribadisco, c'erano tre cardiochirurgie in Calabria, due pubbliche e una privata, mi auguro che ritornino ad essere tre. Che è il numero massimo che possono essere, perché si ribadisce che serve una cardiochirurgia ogni 600.000 abitanti. La Calabria è circa 1.9 milione di abitanti, 6 per 3 fa 18. Ecco, in tre cardiochirurgie in Calabria sono sufficienti sulla carta. È chiaro che se non potenzi anche quelle pubbliche, poi escono fuori i numeri di mobilità passiva che si incrementa. È aumentata la mobilità passiva negli ultimi anni? Penso che è rimasta concretamente un po' stabile. Un po' è aumentata, ma inevitabilmente poi aumenta, perché c'è molta sfiducia. Quindi inevitabilmente si aumenta. Ecco perché dobbiamo fare degli incontri periodici, ma non solo noi di questo centro. Dobbiamo farli anche un po' con tutti, perché le cose positive ci sono. Dobbiamo valorizzare il positivo, altrimenti la mobilità passiva aumenterà sempre. La mobilità passiva è in tutte le regioni. Non è che dalla Campania emigrano, dal Lazio, da Roma, la gente emigra. La Lombardia finisce lì l'Italia, vanno all'estero, vanno in Francia. Emigrano le emigrazioni dappertutto. Però qui è veramente a dei livelli, bisogna fare qualcosa. Noi siamo qui pronti a metterci a disposizione proprio sulla base dei risultati che vi ho mostrato nella conferenza stampa. Però ci devono dare anche i mezzi. Se tu mi dai un fucile, ma io non ho le pallottele, come faccio? Non posso sparare a nessuno, non posso fare niente. Parliamo adesso del Simposio, il settimo Simposio. Questo è un appuntamento importante, molto partecipato. Quest'anno ovviamente sarà a distanza. Di cosa si parlerà e qual è il futuro della cardiochirurgia? Perché parliamo anche tecnicamente di quale può essere il futuro? Il Simposio ovviamente parla inevitabilmente, l'elemento di orgoglio sono il numero di iscritti. Quindi questo vuol dire che si è realmente aperto i suoi confini. Ecco, non è un Simposio regionale. Ma a questo dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa perché un Simposio è internazionale ma che ha aperto i suoi confini. C'è conosciuto anche in tutta Italia. Quindi siamo raggiungendo i mille iscritti che è un numero incredibile che sarà andato sempre anche questo in progressione con molti ospiti internazionali. E anche questo è il futuro della cardiochirurgia. Anche questo contribuisce a essere il futuro. Il tema è diciamo sempre standardizzato. Sono le patologie dell'aorta che sono molto diffuse. Si parlerà anche delle patologie valvolari aortiche. Sono patologie molto diffuse perché sono molto, come dire, subdole nel senso che non ci sono a volte dei segni e dei sintomi e degli elementi premonitori. A volte sono anche drammatiche perché le patologie possono essere acute come la rottura dell'aorta o la dissegazione acuta dell'aorta. Questo è il futuro. Anche questo è il futuro. Questo vuol dire il futuro. Noi dobbiamo guardare al futuro sempre con ottimismo ed essere propositivi. Poi quando perderemo questo ottimismo e questi elementi propositivi a questo punto vorrà dire che siamo realmente stati sconfitti. Siamo stati sconfitti. Siamo stati sconfitti.